allora come prima cosa mi sono messo a conteggiare i gettoni e ho avuto già un paio di belle sorprese belle nel senso belle davvero non belle in senso ironico il bello è che ci sono due tipi di gettoni ci sono i gettoni che danno 10 crediti e i gettoni che danno un credito infatti guardandolo bene l'oper in realtà sono due oper qui sono quelli da un credito e qui sono quelli da 10 la bella notizia che gettoni ce n'è in abbondanza perché sono 276 gettoni da 10 crediti e 178 da un credito era meglio se erano di più quelli da un singolo credito comunque va bene sono più che sufficienti per un uso casalingo va benissimo il che significa che non devo cambiare a gettoniera non devo programmare mi devo mettere di pazienza pulire tutti per bene come si fa e poi l'altra sorpresina è che dentro questo per cui ho trovato questa chiave questa chiave io ho visto che c'è una serratura adesso vi faccio vedere un attimo ecco dicevo qui ho notato che sotto il mobile c'è questa serratura secondo me questo qua è il contenitore del lettore di banconote credo ma non lo so perché vi dico io non l'ho mai aperta quindi la sto aprendo in diretta vediamo cosa c'è qua dentro non ho idea di che cosa ci sia girare gira la chiave gira ma è un cassetto deve estrarre sì c'è una molla sì molto probabilmente questo doveva essere nell'ingresso del lettore di banconote ovviamente banconote non ce ne sono chi se ne frega eccolo qua